...data da tutti, si simulano diciamo la linea che stai da qui. Ecco, il perdetto finale, vittoria agli austriaci, Dian, Busch, Baumer, Jönke, Lambig, secondo... ...divo, c'è davanti... ...dico di Sidney, e io congelo a questo punto, ringrazio... ...dico di Sidney e anche io con il primo... ...dico di Sidney. ...ma cosa fai? ...dafondo... ...dico di Sidney... ...dico di Sidney. ...dico di Sidney. Grazie.